Ciao, sono Amanda Toy, sono una tatuatrice e dipingo quadri. La mia professione è densa di simboli, di colori e di immaginazione. Ogni cosa può essere speciale, dipende con che occhi la guardi. Sicuramente speciali sono le persone che prendono un aereo per venire a tatuarsi in questo studio dove siamo adesso, che è il posto che amo. Sono approdata a questa magica forma d'arte che è il tatuaggio, un po' per caso, partecipando anni e anni fa a una delle prime conventioni in Italia e sono rimasta rapita da questo mondo colorato che mi si è presentato davanti. La tecnologia è comunque fondamentale, mi aiuta a tenere il mio lavoro sotto controllo. Quando posto le foto sui miei social network è importante che le immagini siano molto colorate. La brillantezza dei colori è molto importante in quanto rappresenta la vera essenza dei miei tatuaggi. La cosa che desidero di più per il futuro è continuare anche ad esporre i miei quadri. Amanda Toy oggi è un'artista cresciuta che ha sempre voglia di confrontarsi e viaggiare con curiosità per il mondo.